Benissimo, questo è un video in cui Andrea Galeazzi parla di Money Farm, va bene? Mi sembra di aver capito che uno faceva delle review, Andrea Galeazzi, era uno che faceva delle review, diciamo, l'architetto, ma se non sbaglio online era famoso per il review di prodotti tech, tech e auto review, perfetto, e mi dicono ultimamente sta facendo un po' di video, sta un po' raccogliendo monetizzazione, lo fa tuttora, ok, telefonino.net, telefonino.net, perfetto, ha iniziato il review di telefoni, più grande recessore tech in Italia, andiamo ad ascoltarlo e andiamo a reagire, perché in teoria la tagline, qui il titolo del video era come funziona Money Farm, le vostre domande anche scomode, ok, si parte, dice in pratica Puzza un po' di una pubblicità, vediamo un po' di che si tratta. Ci parliamo di risparmi, voi sapete che da tempi non sospetti, io sono un cliente felice di Money Farm, poi ha iniziato con loro una collaborazione e oggi per loro una giornata importante perché si svolge online l'evento Asset Allocation Strategia 2023, mi hanno invitato a seguirlo dal vivo, quale migliore occasione... Quanta è strana st'inquadratura, lui che sta con telefono, un altro di qua e il cameraman lo sta riprendendo. Partiamo un tanto prima ancora di vedere il video, lui è un felice investitore in Money Farm e ora ne fa una recensione. Già suona male, qui Wesa si sta ribaltando nella tomba, cioè è una metafora che uso spesso, viene dai profilax, viene dai profilax. Quanto utile è una review di qualcuno che è pagato da qualcun altro per fare la review del prodotto stesso? Sarebbe poco credibile una mia review su Interactive Brokers, visto che vengo non pagato per fare la review ma sono incentivato affinché voi siate felici con quel prodotto, quindi in teoria vi consiglio di andare da qualcun altro a vedere il review di Interactive Brokers. Poi io posso dirvi quanto voglio, tutte le volte che voglio che in realtà le facevo prima che venissi pagato, sono anni che parlo di Interactive Brokers e quindi poi dopo a un certo punto ho mandato una mail e ho detto ah si cavolo figo ti paghiamo per parlare di noi, le facevo anche prima, però questo è un altro discorso. Qui parliamo di qualcuno che ha annunciato subito che è pagato per fare questa cosa. Per fargli qualche domanda che ho raccolto qualche giorno fa su Instagram, andiamo. E al settimo piano di un bel palazzo vicino alla stazione centrale c'è Money Farm. Ciao Andrea, ben arrivato. Grazie, immagino che tu sia Francesca. Esatto, io sono Francesca. C'era già il cameraman da quest'altra parte. Di Money Farm. Piacere. Allora, mi ha detto di farti una serie di domande, anche qualcuna cattiva, ma partiamo con quella più importante. Qualcuna cattiva. Si è Money Farm. Money Farm è una delle principali società di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Ecco, questa è una cosa che mi risulta nuova. Money Farm è una società di consulenza finanziaria indipendente, quindi loro non si annunciano come Robo Advisor. Loro sono una società di consulenza finanziaria. non so, se quindi, se io volessi aprire un account Money Farm, farei diversi incontri con un consulente indipendente finanziario? Non lo so. Dove funziona così? Lo chiedo questo qua, non lo so. Davide Pisicchio dice non è, non è una società di consulenza finanziaria indipendente. Questo è quello che hanno detto loro, per cui sicuramente è vero, non metto in dubbio. Chiedo, ma mi risulta nuovo e strano, però se lo dicono loro vuol dire che evidentemente è così. E' una delle realtà più consolidate a livello europeo nella gestione digitale del risparmio. Siamo nati nel 2011 e siamo molto orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto in questo periodo. Una delle società più grandi a livello europeo di gestione digitale del risparmio. Tecchicamente tutte le banche del mondo sono gestione digitale del risparmio, no? Il lato negativo di Money Farm, la cosa più brutta che ti vieni in mente? Mi tocca farti anche domande cattive, anzi. E' cattivissima. Devo farti domande cattive. Ma sinceramente ti direi che la cosa più negativa è che abbiamo tre uffici. La cosa più brutta... Dimmi qual è la cosa più brutta e negativa di Money Farm. Eh, devo farti domande scomode. Eh, abbiamo tre uffici. Adesso mi aspetto che se lo mangi, eh? Adesso mi aspetto che dice, oh, mi ha preso per il culo? Cioè, io so che ho fatto domande scomode e mi dici che c'è dei tre uffici? Milano, Londra e Cagliari. Ecco, fammi nominare. Tu sei a Milano e vorresti essere a Cagliari. Esatto. Ciao. Francesco. Cazzo, è pungente, oh, è pungentissimo. Le domande scomode, però, sono domande scomode. Ha passato a te la patata bollente. Ok. Ciao. Prima di tutto, grazie del fatto che, perché c'era una domanda, Andrea, come stanno dando i tuoi investimenti, nonostante gli anni bui, io sono ancora un più due virgola qualcosa, che non è poco. Ma, come fate a essere indipendenti? Avete allianz e post italiane tra gli azionisti? Vabbè, questa è irrilevante. Non mi sembra la domanda un granché, se sono una società pubblica, non so, non so bene se Money Farm è quotata, non lo so, non credo, non lo so. Se hai banche che ti finanziano, non lo so, ci sta, non mi sembra un grande problema. Allora, sì, diciamo che il fatto di avere post italiane tra gli azionisti va chiarito che sono azionisti di minoranza, ok? Quindi non incidono per quanto riguarda le nostre scelte. Se ragioniamo sul concetto di indipendenza, è un altro il punto a tenere in considerazione, cioè come veniamo remunerati. Nel senso, noi veniamo remunerati, scusa, ma non ti ha chiesto questo, vabbè. ...da te e dai nostri clienti, ok? Che ci pagano direttamente con dei costi ben chiari. E soprattutto non riceviamo alcun tipo di incentivazione, di retrocessione, a seconda degli strumenti che inseriamo nei tuoi vostri portafogli, ecco, per capirsi. Perché sono tutti strumenti che sono quotati sui mercati e che acquistiamo liberamente. Quindi il concetto di indipendenza si configura nel fatto che veniamo pagati sui clienti senza essere influenzati, diciamo così, dai ricavi che potremmo ottenere inserendo nei portafogli diversi tipi di strumenti. Vabbè, sono, cioè, frase che sarà stata preparata, approvata dal team DPR, dal team legal, quindi sarà ineccepibile. Siamo indipendenti perché abbiamo azionisti anche di minoranza, che sono banche e alliance assicurazioni, però siamo indipendenti perché nei portafogli ti mettiamo prodotti acquistabili sui mercati, anche prodottacci, si acquistabili sui mercati, però non... ok, va bene, penso che veniamo solo pagati dal cliente, i soldi li prendiamo da te, cliente, con delle fee, non prendiamo soldi da fondi per piazzarvi quei fondi nel vostro portafoglio. Quindi in teoria il consulente finanziario indipendente dovrebbe fare i tuoi interessi perché non ha un interesse speciale nel piazzarti dei prodotti nel tuo portafoglio. Ok? Quindi non c'è il famoso conflitto di interessi. Esattamente, la completa assenza del conflitto di interessi, quindi questo è il modo di identificare l'impendente. Legalmente... Ho detto a microfoni spenti, no vabbè sono accesi, ma chi se ne frega, io sono andato a vostro cliente proprio per questo, perché da... vabbè ma questa è una storia che puoi raccontare un'altra volta, perché da architetto odio le imprese che ti portano l'architetto, perché poi se il muro è storto l'architetto indipendente dice rifallo. Vabbè, quando arriva... L'impresa dice è artistico, guarda che bello, funziona così. Esatto. Commissioni troppo alte, un per cento più IVA è tanto? Oh, oh, ecco la domanda delle domande, vai. Allora dipende dai punti di vista, dipende che tipo di servizio andiamo a valutare, chiaramente. Se tu compari il servizio Manifarma magari con una piattaforma di brokeraggio dove non c'è alcun tipo di consulenza, è chiaro che il rapporto non tiene, ma il nostro valore aggiunto, mi auguro che tu possa confermarlo, è per l'appunto della consulenza. Il valore aggiunto, se andiamo verso un account di brokeraggio che non ha costi, ovviamente c'è un 1% più IVA, 1,22, quant'è l'IVA? 22, 23? Non lo ricordo in Italia quant'è l'IVA, 22, 23, non lo ricordo. Di là se vai su un broker qualsiasi, se ti costruisci un portfolio è zero. Noi facciamo pagare l'1,20% che ora ci dirà che è anche competitivo rispetto al resto, però non siamo un semplice tool passivo che fai un click e compri cose, noi siamo una società di consulenza, il valore aggiunto è la consulenza. Ora chiedo, c'è qualcuno di voi che lo usa Moneyfarm? Purtroppo non lo uso, non lo posso usare e non lo userei manco morto, però c'è qualcuno che usa Moneyfarm e ha un dialogo continuo con un consulente? Perché io conosco consulenti finanziari indipendenti e so come funziona, cioè so qual è il rapporto, so cos'è la consulenza. Cioè la consulenza di un consulente finanziario indipendente, o anche di una società di consulenza come ad esempio PWL Capital, l'abbiamo avuto Ben Felix qua, che ci racconta di come il consulente finanziario come ultima cosa, come ultimo step, il più piccolo e il più facile di tutti quanti, in quanto investing is solved, è la parte di investire i soldi in qualche ETF. Il grosso, la consulenza finanziaria è a monte, qualcosa di studiare gli obiettivi assieme nel fare wealth management, gestire le realtà, aspetti fiscali, assicurativi, tutti questi aspetti. Con Moneyfarm, tu hai un consulente che chiami a rompire balle tutti i giorni, si parla di obiettivi, si parla di gestione del patrimonio su più larga scala? È una roba del genere? Qualcuno mi sa dare un feedback? Io l'ho usato, mai avuto un dialogo, ma non so se il motivo è che non mi sia mai servito, o per qualche altro motivo. A me è capitato di avere problemi e mi hanno messo a disposizione un umano con cui parlare a telefono, per qualunque dubbio, però non è parte del processo, cioè non è parte del tipo, ok, hai l'account Moneyfarm, vieni in ufficio, parliamo, portaci tutti quanti, hai fatto budgeting, sai quanto spendi, sai quanto ti rimane, possiamo vedere un po' come arrivare da qui a cinque anni per mettere da parte i soldi per pagare la conto, per comprarti casa. Questo è anche consulenza finanziaria indipendente, per la quale paghi dei fee, ma hai un servizio di gestione del patrimonio a tutto tondo, non soltanto il RoboAdvisor. Forse intendo il ribilanciamento come una consulenza? Certo, non lo so, vorrei poter... Mi spesso perché poi, essendo incompleto, rischio anche di essere, non dico diffamatorio, perché sono tutto un allegedly, il basso lato è tutto un allegedly a perdita d'occhio, però ripeto che, non so, se ci sono queste cose, ok, se non ci sono, l'1,22% comincia a essere tanto. So che sotto l'1% trovi anche dei consulenti indipendenti che ti fanno un servizio a tutto tondo, ok? Jamma 12,95, io, purtroppo l'ho potuto provare, puoi chiamare il consulente quando vuoi. Gli unici contatti che ho avuto sono stati per segnalare bug. Lo stesso giorno che veniva fatto un ribilanciamento, in un momento quei soldi non venivano investiti rimanendo in liquidità. Quindi però in teoria hai un consulente, non ti danno consulenza specifica, ma solo in base al tuo profilo di rischio, investono in pacchetti fatti da loro. Quello lì lo so, il servizio base lo sappiamo, tu installi l'app, ti fai un account, farai il know your customer, quindi farai tutta la parte di onboarding, dopo in base al tuo questionario ti arriva un suggerimento oppure una forzatura su un profilo di rischio, e poi dopo tu metti soldi e te li investono secondo quel profilo, con il portfolio di quel profilo di rischio, che sono sette livelli di rischio e ogni livello di rischio è stato un portfolio e tu quello hai e non hai zero customizzazioni. Ora, questo è il servizio base, questa è la parte di RoboAdvisor, che a mio avviso pagare l'1,22% per questa roba qui è folle. Se c'è un servizio a tutto tondo di consulenza finanziaria che va oltre a questo qui, va sulla gestione del patrimonio, sulla pianificazione degli obiettivi, aspetti fiscali, assicurativi, gestione anche di future eredità, questo è un servizio che può cominciare ad aver senso. Ok? Vai! ...quella che il cliente paga principalmente, oltre che l'utilizzo della piattaforma e della tecnologia che c'è dietro. Diciamo che noi, nel momento in cui andiamo a valutare i nostri costi, ci compariamo con quelli che sono i nostri, eventualmente, competitor alternative, quindi mediamente l'ambiente tradizionale, quindi le banche piuttosto che... Cioè, piuttosto che usato in modo sbagliato, già non piace. Compararsi con le banche, ok, ho spesso detto che le banche, spesso le banche e le loro gestioni patrimoniali sono criminali, io ne ho viste alcune criminali, ho visto alcune gestioni patrimoniali con costi di gestione attorno all'1% annuo, più i costi dei prodotti sottostanti, che sono prodotti con dei costi, con dei terra del 2% e commissioni di ingresso e di uscita. Le gestioni patrimoniali delle banche sono ovviamente criminali, però trovo che paragonarti a loro è come dire... Ma no, guarda, rispetto Pacciani sono una brava persona, cioè, c'è Pacciani, Pacciani, i compagni di merende, no, si faceva solo merenda assieme, e rispetto loro siamo tutte persone molto migliori, non è un ottimo benchmark, a mio avviso. Per farti capire la qualità della consulenza, all'inizio del QT, QT non so cosa intendi, ha chiesto al consulente quale fosse il motivo per cui tenevano in portfoglio treasury a scadenza lunghissima. Il consulente mi disse, le bond sono importanti perché diversificano le stock. Ma era tipo chat GPT? Tuttavia, ti mettiamo... Ma Pacciani era un poeta. Ok, andiamo avanti. ...i fondi comuni di investimento. In ogni caso, abbiamo anche fatto uno studio di recente, basandoci su dati morning star, anche col supporto e con la collaborazione della situazione dei consulenti finanziari indipendenti, i nostri costi sono mediamente quantomeno la metà rispetto alla bene tradizionale, sono addirittura di un quinto in certi casi. Un quinto in certi casi? Non so bene che casi abbiamo analizzato. Cioè, sì, un quinto rispetto a Breivik, rispetto al mostro di Milwaukee, probabilmente. Nel senso, anche il numero mio di omicidi è sotto la metà di quello di Pacciani. Domanda provocatoria di Aaron Rem. Da un consulente finanziario può andarci anche solo con 5-10k? Probabilmente no, non credo, ma se hai 5k, vai su questi prodotti qua, ti prendono 1,2%, non ti conviene neanche iniziare a investire con solo 5k. Con solo 5k, se vuoi investire, e può aver senso per tanti motivi, sono quei soldi che ti devi mettere in preventivo per allenarti per conto tuo. Cioè, in quale circostanze qualcuno ha solo 5k da investire? O se sei giovane e stai iniziando la tua carriera, oppure se stai sbagliando. Cosa intendo dire? Se tu sei giovane, se hai 20 anni, hai 5k da parte, sono i primi 5k di tanti altri k che arriveranno in futuro. In quel caso lì, iniziare a avviare un percorso in cui paghi l'1,2% da qualcuno e ti aspettano altri 50 anni di investimento, stai lasciando sul tavolo qualcosa come due terzi del tuo futuro patrimonio. due terzi. Se integri per 50 anni, 1,2%, stai lasciando tantissimo. Fermo restando che il loro portfoglio più rischioso è comunque inferiore a un 80-20 e magari per un 18enne non ha senso. Quindi se sei un 18enne e hai 5k, non devi usare questi strumenti. Se sei un quarantenne e hai 5k, non devi investire. Quindi non vedo nessuno scenario in cui con 5k ha senso usare uno strumento del genere. Dico questo perché tu hai certo l'un per cento più IVA, però i nostri costi vanno a scaglioni. Fino a 20.000 euro investiti, il costo è come dici da Dele, un per cento più IVA, da 20.000 a 200.000 euro, il costo è dello 0,75%. Ok, sì, è vero che i primi 20.000 hanno un costo dell'1% più IVA, fino poi a 200.000 è 0,75% più IVA, che vuol dire andiamo comunque attorno all'1%, 1%, fino a 200.000. Teniamocelo in testa, 1% fino a 200.000. ...piuo IVA, da 200 a 500.000 euro siamo allo 0,5% più IVA, sopra 500.000 euro siamo allo 0,4%. Fino a 500.000 poi stiamo a 0,5%, sopra 500.000 stiamo a 0,4%, sempre più IVA, eccoli qua sotto. Sto dicendo che devi investire un po' più. Che non significa che se hai 500.000 e 1 euro tu paghi 0,4%, paghi comunque l'1% fino a 20.000, paghi comunque lo 0,75% sulla eccedenza, credo, questo potrei sbagliarmi però, perché se no mancherebbe la parte da zero, questo qui non lo so esattamente se c'è uno scatto netto o se c'è un come l'aliquota IRPEF, questo non lo so. Diciamo che l'ottimizzazione funziona sempre, in questo caso. No, poi è chiaro, ed è bello il paragone sul fatto che il broker ti costa molto meno, ma le decisioni sono tue, cioè sei tu che decidi dove investire così, e devi avere tempo e conoscenza. Questo è proprio... Questo è proprio no. Questo no. Cioè sì, tempo e conoscenza, però le decisioni sono due in ogni caso, non è che Money Farm ti evita, ti blocca i soldi e non ti fa disinvestire. Io invece non li ho e lascio le investire. chiaramente, perché fare le scelte su sezione è mai facile. E infatti, al bottom del mercato nel 2020, a marzo 2020, hai mandato mail agli investitori dicendo ehi, visti i mercati ballerini, abbiamo pensato che anche col tuo profilo di rischio, che magari è elevato, ti spostiamo più soldi in bond. Quindi gestire le emotività non è difficile, avete ragioni, neanche un robot ci riesce. Domanda interessante, molto attuale, iscritto un anno fa, meno 8,9%, sarà difficile rientrare anche sul lungo periodo. Cosa fare? E qua c'è tutto discorso, 2022, anno terribile. Esattamente. Ti posso confermare che il 2022 è stato un anno molto difficile, rilevante, parlare di laghi. Politica monetaria restrittiva, inflazione crescente, incertezza geopolitica in Europa a causa del conflitto. E questo sicuramente ha impattato i mercati e negativamente su tutte le asset class, ad eccezione delle materie prime. Guarda, tanto per darti un'idea, se prendiamo un esempio di un portafoglio bilanciato, facciamo 60% azionario, 40% obbligazionario, questo è il terzo peggior anno dal 1930 ad oggi. Vabbè, diciamo, serve rassicurare, se avete notato un po' online, sono un po' sparite molte sponsorizzazioni del mondo, del mondo investing, no? C'erano anche altre realtà, anche altre realtà che sponsorizzavano tanti canali YouTube, no? C'erano delle realtà che adesso non si scoprono, più che fine hanno fatto? Non lo so, ricordo ad esempio, ma non voglio far nomi, non voglio far nomi, non facciamo che si vede la marca, Zippippino, non facciamo che si vede la marca. Non lo so, c'erano sponsorizzazioni che si vedevano tantissimo, di fondi che underperformavano costantemente, ma di brutto, fondi pessimi, a gestione attiva, o comunque fondi di investimento di qualunque tipo, qual è il problema? È che quando c'è un bear market, quando c'è un mercato in ribasso, spariscono, quando sarebbe ora il momento di pubblicizzare le certe cose? Il fatto che ve le servano, il fatto che vi servano, vi mostrino fondi di investimento, prodotti di investimento, quando il mercato sta solo andando su, vi mostra un po' chi è il pirla che compra alto e chi è il pirla che vende basso. Adesso che i mercati stanno comunque in un anno e mezzo brutto, non si vedono pochissime pubblicità di investimenti. Quando sarebbe più senso adesso? Che quando stavano i massimi. Quindi ora, hanno dovuto fare questa premessa, perché sicuramente saranno detti, ma che impatto avrà verso i merluzzi, una campagna di, una marchetta verso, un tool di investimento in questo momento in cui i mercati sono bui. Ma facciamo la premessa, diciamo che il 2022 è stato l'anno più brutto della storia, così non spaventiamo la gente. C'è da dire però, infatti qui mi collego al fatto che questa tua, appunto, questa persona che ti ha scritto, Riccardo 83, Riccardo 83, cliente solo da un anno, conta molto il tempo. Dal 1930 ad oggi abbiamo avuto 71 anni per questo ipotico portafoglio di rendimenti positivi 21 anni di rendimenti negativi. Quindi il tempo aiuta sempre, perché un investimento al mercato non ti darà mai un interesse costante e uguale nel tempo. Avrai annate in cui non parliamo di moni. Come magari sono il 2021, ad annate piuttosto negative come il 2022. Però il tempo conta molto. Infatti, il prossimo domanda scomoda. A più due qualcosa proprio per questa differenza. Tra l'altro io ho fatto l'errore della vita, non avendo poi sfruttato i vostri servizi consulenziali di covid. Cosa faccio? Disinvesto tutto. E poi ho investito dopo perdendo tanto in quella fase. Invece il tempo, come dicevi tu... Ma infatti ti posso dire, visto che Riccardo diceva cosa fare, cosa fare è rispettare il proprio piano di investimento. Tanto per darti un'idea, da inizio anno ad oggi i nostri portafogli immediatamente hanno già recuperato 5 punti percentuali. Quindi immagini... Sì, ma non è merito. Se qualcuno che magari fino ad anno disinvestito già aver perso un mese e mezzo di mercati è già un 5%. Dai! Quella è la soluzione. Come mai non attivano un portafoglio con un rischio molto elevato nel mondo cripto? Allora qui... Perché una domanda del genere? Qual è il senso di una domanda del genere? Qual è il senso di una domanda del genere? Un robot... Potrebbe avercelo senso, no? Potrebbe aver senso. Potrebbe un robot advisor decidere offrire un servizio del tipo ma l'asset allocation che abbiamo deciso di implementare con questo algoritmo è 60-30-10 oppure in cui c'è anche una componente cripto. Potrebbe, in effetti. E anzi, molti fondi attivi che saltano sul cavallo dei vincitori sanno che nel mondo cripto puoi sparare costi altissimi da gente non sta lì a guardare l'1% per cui molti anche ETF che tracciano cripto hanno l'ipotetare del 3% per cui in teoria in teoria avrebbero potuto farlo. Vediamo la risposta. Va contestualizzato nel senso che noi facciamo consulenza basandoci sull'asset allocation strategica quindi identifichiamo delle asset class che possono essere utilizzate per la costruzione di portafogli nel medio e lungo termine intervenendo in un tempo più breve in maniera tattica. Non riteniamo ancora le criptovalute adeguate a un momento questo è importante è una frase interessante basandoci sull'asset allocation strategica quindi identifichiamo delle asset class che possono essere utilizzate per la costruzione di portafogli nel medio e lungo termine intervenendo in un tempo più breve in maniera tattica. Intervenendo in un tempo più breve in maniera tattica. Identifichiamo delle asset class che possono essere utilizzate per la costruzione di portafogli nel medio e lungo termine intervenendo in un tempo più breve in maniera tattica. Attivo gestione attiva gestione attiva sei un robot fai il robot non vogliamo gestione tattica nel tempo più breve sto pagando un robot advisor voglio un cazzo di robot non voglio qualcuno che interviene nel tempo più breve in maniera tattica o se no voglio lo storico dei vostri interventi nel breve tattici e i ritorni che hanno portato gli unici due che so essere accaduti sono azioni che hanno portato del male a chi aveva un portfolio particolare ok non riteniamo ancora le criptovalute adeguate per questa tipologia di strategia vuoi perché anche il regolatore non è così chiaro non ci sono regolamentazioni di questo tipo quindi non riteniamo che sia un asset class da inserire in un contesto come questo mentre potrebbe andare benissimo diciamo così esatto blockchain è un discorso diverso non ragioniamo su singole criptovalute ma ragioniamo su una tecnologia ad esempio abbiamo appena introdotto delle linee di investimento multitrend chiaramente la blockchain potrebbe essere un linee di investimento multitrend qui stiamo ok si sta spostando il paradigma ragazzi c'è da fare molta attenzione una delle cose che a me disturba di più in quest'epoca è che è che diventa facile appiccicare etichette su qualcosa di brutto no? questa roba è brutta questa roba invece è bella il bello poi trova tranquillamente nel tempo che se il bello non viene difeso trova delle sfumature di brutto e non te ne accorgi e diventa brutto senza che te ne accorgi ad esempio abbiamo capito che investimenti passivi sono migliori per gestire tranquillamente un portfolio di una persona che vuol solo stare tranquilla sì perfetto gestione passiva solo etf sì è viva però sono tanti etf quale prendiamo? prendiamo quello sull'energia rinnovabile aspetta no c'è un etf di criptovalute c'è un etf di quest'altro c'è un etf di cyber security aspetta però andava cool quello sull'energia prima cioè fatti i cazzi tuoi cioè diventa attivo ridiventa attivo gestione attiva con strumenti passivi se è troppo attiva è una merda sei come ARK no no ci ricordiamo la reaction che ho fatto a come investe Marcello Ascani e i suoi i suoi robot advisor avevano appunto confrontato Moneyfarm che è ancora comunque abbastanza pulita come gestione di portfoglio con un altro robot advisor che usava soltanto etf settoriali tematici no cioè non sei più un robot advisor sei gente dietro che così stabilisce asset class e fa timing del mercato e fa lack of diversification per seguire qualche trend non è quello che io consiglio a chi vuol stare tranquillo se mi dicono ma guarda io non ne so niente non mi consigli un robot advisor per non saperne leggere né scrivere per prendermi tutto il mercato magari sì non all'1,20% però un robot advisor che si fa gli stragazzi suoi che ti compra x% stocks 1-x% bond ok dei temi da andare ad inserire all'interno della linea di innovation technology e perché no mi riallaccio da tecnomaniaco che tecnologia c'è dietro Monifar perché noi dall'applicazione è tutto semplice c'è chi dice life strategy ovviamente ovviamente ce l'ho già pronto ad esempio la serie di vanguard life strategy sono etf che life strategy eccoli qua sono etf che hanno frazione di bond frazione di stock abbiamo quelli 20-80 40-60 60-40 80-20 in base all'accumulating o distributing aveva scelta e hanno un ter di 0,25 che è già il ter totale non c'è una gestione gestione patrimoniale sopra e costi degli strumenti sotto è già tutto this is not financial advice ma è per dire se uno non sa cosa fare e vuole soltanto investire su un prodotto che ha un asset allocation interna stocks e bond una volta che ha capito qual è la giusta percentuale di stock e bond che non è facile da fare però una volta che uno ha capito quale può essere la sua allocation questo è a mio avviso un ottimo sostituto per un robot advisor non è un sostituto per un independent financial advisor perché un independent financial advisor fa altro oltre che allocarti i tuoi soldi e anzi complimenti veramente fatta bene ma dietro immagino che ci sia qualcosa guarda c'è un lavoro molto grosso dietro considera che la maggior parte dei dipendenti money farm sono ingegneri e lavorano nell'ambito tech noi ci affidiamo molto ad algoritmi perché noi ci definiamo innanzitutto un consulente ibrido di base dove mettiamo insieme la componente tecnologica con quella umana come posso fidarmi? non ho ben capito cosa intende che sicurezza mi danno che non spariscano o falliscano magari tra due anni allora innanzitutto speriamo che le aziende stanno bene non dovrebbero esserci problemi speriamo che continui così continui a crescere come è fatto finora chiaramente no ma tornando a serie domanda irrilevante se fallisce money farm e gli asset dovrebbero essere protetti in quanto in quanto gli asset finanziari sono protetti non non assicurati come i conti corrente ma sono segregati dagli soldi della società e se fallisce una in un mondo regolamentato qual è quello della gestione del risparmio gli asset degli utenti sono investiti in quei prodotti sono segregati dai conti aziendali se l'azienda fallisce i creditori non possono rifarsi sugli asset dei customer gli asset dei customer torneranno ai customer ora non so credo di no però non vorrei questa cosa che non so money farm immagino che abbia una sorta di accesso ti dia un conto omnibus non un conto segregato per cui se il tuo portfolio su money farm dice che tu hai x per cento di questo etf è un accounting interno non da nessuna parte su nessuna a nessuna casto di bank è scritto che tu hai quell'x per cento del tuo etf ma questo è vero anche per la maggior parte dei broker anche il mio broker preferito fornisce account omnibus avere account segregati costa tantissimo ma c'è chi magari gente super wealthy che preferisce avere account segregati cosa se vuoi la differenza è che con un account segregato cercate di capire se la vostra banca lo fa o lo offre ma costa molto di più nelle casto di bank c'è il vostro nome cioè se chiami vanguard sanno che tu hai 5 share di quell'etf se oggi chiami vanguard dice no money farm ha 10.000 share di questo etf tu hai un entry in un database dentro money farm però questo qui è come fanno tutti quindi non è una colpa diciamo che qui è molto importante chiarire che siamo regolamentati in Italia da console e banca d'Italia dà solo fastidio a me il fatto che è a fuoco il fondo e lui è sfocatissimo in Italia e in Inghilterra della financial con tutori quindi questo dovrebbe già dare un grande senso di sicurezza ai nostri clienti in aggiunta anche qualora poi dovessero verificarsi degli eventi insomma come quello che dovesse andare male qualcosa in money farm ci tengo a chiarire che tutti i beni dei nostri clienti sono depositati su conti correnti appunto depositi segregati con l'espresso indicazione che tratta così leggi bene la scritta ok questa qui è una domanda facile è poco scomoda i creditori di money farm potrebbero rifare non ci avevo fatto caso non ci avevo fatto caso però potevamo mettere la tricamera più storta così leggevi bene il logo tutto il tempo farsi esclusivamente sui conti sui beni dell'azienda esattamente e anche qualora poi dovesse succedere qualcosa l'azienda non sparisce da un giorno all'altro andrebbe appunto in una procedura ecco fallimentare o d'altro che permetterebbe comunque ai clienti ovviamente come cioè questo è il mondo regolamentato il mondo regolamentato non è Dio ci sono scasi diciamo Madoff in cui in maniera criminale qualcosa è possibile fare ma questo è vero per qualunque altro ambiente in qualunque altro ambiente se di là c'è un'organizzazione criminale che ha eluso tutte le forme di controlli di audit e di regolamentazioni possono fotervi soldi ma questo è vero in qualunque altro ambiente domani potremo scoprire che una banca X è criminale e in realtà sta fallendo e vi sta mandando zampe all'aria però sulla parte liquida dei vostri portfoli ci sono le assicurazioni nazionali e internazionali però sulla parte asset in teoria se non c'è una criminalità sono tutti quanti protetti domanda facile di comunque accedere a tutte le informazioni e recuperare le capitali siete scaramantici è perché le sale e le riunioni che nomi hanno dimmene tre guarda ci siamo io dico audit sempre detto audit in inglese audit auditel divertiti perché abbiamo Banca Popolar di Lodi abbiamo Banca Marche abbiamo Banca Etruria abbiamo anche la Lehman Brothers chiaramente quindi famosissima famosissima perché dovrei scegliere voi e non un BTP che cazzo di domanda è? perché dovrei scegliere voi e non un BTP che cazzo di domanda è? o una cosa simile tipo un conto deposito un conto deposito ma che domanda è? no dai aspetta qua diciamo che il discorso è un attimo più complesso perché dovremmo entrare nei tecnicismi diremmo diciamo che per farla breve potrei invitare appunto i tuoi followers ecco a dare una maletta al nostro blog trovate un articolo nella sezione è una marchetta a un post che hanno appena scritto su conviene comprare BTP sul blog di Money un approfondimenti proprio dove andiamo a parlare della differenza oggi di investire un portafoglio diversificato rispetto magari a un BTP e provare a dare insomma qualche evidenza di cosa convenga vediamo se c'è scopi la prossima sono ricominciate pubblicità conto di qua 3% 4% quindi buona dritta avete lanciato i portafogli tematici io ho visto in app ero molto tentato da quello sostenibilità adesso me è un po' ma se tu se tu utente tipo che dice io non ho tempo per studiare non sono in grado di imparare cos'è un ETF che traccia Word e quindi voglio pagare l'1% ai prossimi 50 anni a qualcuno e quindi lasciare due terzi dei miei soldi a qualcun altro in 50 anni non voglio fare sta fatica però poi lo stesso utente ha il diritto di esprimere opinioni su che temi vuole investire sui portafogli tematici io dovrebbe essere tolto il diritto di scelta se tu vai da un robot perché non vuoi far fatica perché non vuoi studiare non hai le capacità ah perché cazzo dovresti scegliere un ETF tematico perché dovresti scegliere un portfolio tematico però vediamo cosa sono i portfolio tematici un trend da qua al futuro perché li avete lanciati cosa sono allora diciamo che erano diversi anni no che volevamo affiancare ai nostri portafogli di investimento tradizionale anche delle linee che potessero permettere ai clienti di prendere esposizione su uno o più trend perché devono scegliere perché il cliente deve scegliere di avere esposizione su un trend non 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 allora semplifichiamo un attimo chiariamo delle cose a me non piacciono gli ETF tematici e gli ETF settoriali però sono due cose diverse i settori sono tipo una quindicina di settori sono un po' più ufficiali hanno una denominazione ufficiale proprio sulle stock exchange i temi sono una roba ancora più sottile a grana più sottile per cui abbiamo centinaia di temi diversi mentre i settori sono una quindicina una dozzina se non sbaglio cioè financials industrials IT energy banking forse ho già detto doppione quindi consumer staples tipo amazon e consumer staples cose qua il problema con i tematici e con i settoriali è che hanno scarsa diversificazione anche se hanno tante aziende all'interno comunque sono molto correlate quindi abbiamo è un po' una via di mezzo tra una stocks singola tra una stock singola e un ETF ad ampio spettro il tematico è una stock singola on steroids quindi ha se vogliamo molta più volatilità con più o meno stesso ritorno atteso se ci aggiungiamo che tutta sta roba qua spesso soffre di un problema che sui temi più che sui settori sono storici sono ciclici i temi sono molto più si tende a creare ETF tematici su un tema che ha già dato cioè qui non troveremo adesso un tema adesso da leggere non ho ancora letto non troveremo un tema di quelli che sta underperformando da dieci anni che magari è il momento giusto che si ripiglia non troveremo dei temi troveremo solo temi che erano cool che hanno già dato ok infatti innovazione tecnologica ok wow società del futuro ok investimenti sostenibili vabbè quello sul sostenibile è un tema molto ampio per cui non ho particolare riservo però qual è il concetto è che l'ho già detto mi sto un po' ripetendo il concetto è che è che se sto usando un prodotto pagandolo tanto non voglio che questo o applichi delle scelte strategiche nel breve periodo o chiede a me di applicarle se chiede a me di applicare di scegliere che tema voglio a sto punto me lo compro da un'altra parte su un broker un ETF tematico ok io personalmente dico sempre che gli ETF tematici non mi piacciono però ci sta pure quando parlo con qualcuno che ha delle convinzioni molto forti credo tantissimo ho anche parlato con persone che volevano a tutti i costi investire in un ETF di videogames ETF di videogame technology quindi aziende che producono hardware per videogame o altre cose ok ci sta vuoi fare vuoi avere un po' di sovraesposizione verso un qualche tema ok è inefficiente però ci sta che uno voglia anche votare col proprio wallet ok va bene 5-10% una piccola esposizione un 5% del portfoglio vuoi esporti a temi che ti stanno simpatici vuoi essere renewable energy vuoi essere smart cities vuoi essere esposto a smart cities ok oppure metaverse un ETF metaverso su sensori attici e altre cose ok sovraesposizione misurata misurata mai più del 5-10% se proprio siete pazzi del vostro portfoglio di sovraesposizione niente di più this is not financial advice questo proprio con l'obiettivo di dare la possibilità di investire in aree che possono avere delle potenzialità di crescita nel medio e lungo termine importante all'interno di quelle che riteniamo più promettenti e dando anche al cliente la possibilità di scegliere in quello in cui crede quindi tu il centro di sostenibilità abbiamo anche l'innovazione tecnologica come ho detto prima oltre che la società del futuro e lo facciamo non abbandonando il cliente chiaramente ma guidandolo nelle scelte che vuol dire guidandolo e gestendo chiaramente attivativamente il rischio riducendolo tramite un approccio che defito Corsate Light questo significa che ai nostri portafogli tradizionali affianchiamo la linea multitrend e scegliamo noi in che percentuale si può avere accesso a quella linea va dal 5 al 20% a seconda della proporzione al rischio del cliente vabbè non è male non è male non è male piuttosto che dalla proporzione al rischio del cliente piuttosto che dell'orizzonto temporale l'obiettivo di queste linee è quello di massimizzare l'alfano quindi cercare di massimizzare il rendimento cercare attenzione dalla professione rischio del cliente piuttosto che dell'orizzonto temporale l'obiettivo di queste linee è quello di massimizzare l'alfano quindi cercare di massimizzare il rendimento ok l'obiettivo di queste linee di effetti tematici è cercare di massimizzare il rendimento Ad esempio ti cito un paio di ETF che sono all'interno della linea sostenibile, Clean Energy, Clean Water, quindi a differenza magari anche delle nostre linee tradizionali ESG dove magari vai ad acquistare l'indice S&P 500 piuttosto che l'MC Award sostenibile, qui andiamo su diretti su dei temi. Dopodiché anche qui interviene la tecnologia perché nel scegliere anche gli ETF che poi vanno a comporre la linea sostenibile abbiamo un algoritmo di Machine Learning che va ad aiutare il nostro team di asset allocation, cioè i nostri gestori umani a scegliere gli ETF più performanti, quelli che sono maggiormente diversificati e soprattutto anche ad individuare i temi che sono appunto Clean Water piuttosto che Clean Energy da inserire. Troppi piuttosto che usa di male ragazzi, non ce la faccio, troppi Energy che può essere quello della sostenibilità e grazie a questi strumenti lo andiamo anche a rivedere costantemente e ribilanciarlo. Queste sono parole che fanno sembrare una roba particolarmente altisonante o ben pensata oppure un wow, madonna che chissà quanti calcoli fanno, chissà quanti ragionamenti, questi sicuramente batteranno al mercato. L'ottica di fornirvi ecco quello che è secondo noi il miglior risultato. Chiarissimo, vi faremo sapere perché mi sai che usufruirò, però adesso mi hai promesso il backstage dell'evento online. Ho una grande fortuna a aver sentito in diretta all'evento e vi poter parlare con Paolo che è il co-founder di Moneypharm. Eccolo qua. E ti dico una cosa, non per piageria, non perché stiamo facendo un video su Moneypharm, ma sinceramente avendovi seguito, vi dico, sono ancora più convinto di avervi dato i miei risparmi da investire perché siete stati sinceri, puntuali, precisi e pragmatici. Grazie. Beh, questo è il coronamento, questo è Moneypharm. E questo è esattamente quello che io speravo 12 anni fa di riuscire a costruire dietro al mondo degli investimenti, che è un mondo che io ho frequentato per tanto tempo, per lungo tempo. Mando a 1.5 vera. Ho imparato un sacco di cose, per me è stata una formazione preziosa da tantissimi punti di vista, però era altrettanto vero che c'erano delle cose che si tridevano, non funzionavano. C'erano un insieme di elementi che vanno da una mera analisi dell'utilizzo del digitale, dell'interazione, che non si evolveva, a temi che sono più delicati, come hai sentito anche oggi nella presentazione, al tema dei costi. Io ho fatto un piccolo accenno al tema dei costi, perché quando Moneypharm oggi è un servizio di investimento che se comparato agli analoghi servizi di investimento sul mercato costa, posso tranquillamente dire, tra il 50 e il 70% in meno. Hanno proprio il loro pitch, cioè veramente, tipo, non lo so, hanno il loro pitch, cioè non escono dalla riga, costa tra il 50 e il 70% in meno. Io sono tra il 50 e il 75% in meno più bravo di... del mostro di Milwaukee. Posso tranquillamente dirlo, non corro alcun rischio. Anzi, diciamo che spero di essere più del 75% in meno cattivo del mostro di Milwaukee. Cioè, è una variazione di imparazione. Il tema dei costi è uscito anche prima nelle domande. Assolutamente. Il problema è che non sono riuscito a raccontare, ma lo so perché dopo il tempo è troppo lungo, è che quando noi siamo partiti con questo modello, quando tu andavi a raccontare questo aspetto dei costi, nessuno aveva minimamente la sensazione che lui stesse pagando per gli investimenti. E quindi tu raccontavi che avevi costruito una soluzione di investimento che costava il 70% in meno di qualcosa e l'altro ti guardava e diceva, ma di che cosa io non sto pagando. Allora, questo tema noi per lunghissimo tempo non siamo riusciti a utilizzarlo anche dal punto di vista della comunicazione, perché le persone non erano consapevoli che dietro agli investimenti c'erano dei costi veramente considerevoli. Due cose, la prima è che senza esperienza non avresti fatto quello che hai fatto perché non avresti avuto... In questo caso sì. Anche un prestito in banca costa 50-70% in meno di una storia. Zbippino, questo è un fair point. Diciamo che sì, loro hanno detto il mio target è quello che al momento viene preso e scippato in banca. Quello che entra in banca e gli appioppano i soldi degli altri, i soldi degli altri dot com. Quello che entra in banca e gli ha la vecchietta, gli appioppano i fondi a gestione attiva con il 4% di costo di entrata ed uscita, il 2% di terra e il 20% di performance, che in 30 anni di bull market fanno l'1% totale. Quello è il loro cliente, quindi a quello lì, che prima era entrato in una gangbang con 75 persone di varie etnie, gli dicono esci da questa qui che ti fa un po' male, vieni in questa altra gangbangina con soltanto 10 persone, tutti quanti asiatici. quanti bann rischio? Mi dissocio subito? Mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Aspetta, se taglia, no, no. Allora, metaforicamente, allora aspetta. Invece di andare in... tu prima eri capitato in una stanza con 50 bei maschioni super dotati e sono tanti e fanno male, ora entri in una stanza di 10 che ti fanno meno male, stag. Perché gli asiatici... no, è uno stereotipo, ragazzi, è uno stereotipo. Cambia metafora, sto sudando, aspetta. Allora, prima ti avevano messo in bocca un litro di olio di ricino, ok? Adesso, scusa, guarda, vieni qua e ti diamo davvero un bicchiere di purga. Un bicchiere di purga tranquilla, di... aspetta. Vabbè, funziona? Funziona? Ti avevano messo in bocca, sì. Allora, prima ti hanno messo in bocca un litro di olio di ricino, tu vieni da quel mondo online, qui ogni giorno ti sparavi un bel litrazzo di olio di ricino e adesso ti guarda, non lascia perdere, prenditi solo un bicchierino di lassativo, ok? Ok, mi dissocio, mi dissocio, è un modo per... è una metafora, ovviamente, che sta a significare... meglio, va bene? Mi sono salvato. L'assativo asiatico del Burmini. L'assativo separatista del Burmini. Ok, però il senso l'abbiamo capito, no? Del tipo, se il mio cliente tipo è quello che vale gangbang con... Non ce la faccio, non ce la faccio. Ok, se il mio cliente tipo e il mio benchmark sono le banche, siamo meglio delle banche. Ok, va bene. Ineccepibile. Siete meglio di molte gestioni attive che si trovano... che ti propongono nelle banche. Ok? Siete migliori del lower bound di ciò che trovate nel mondo bancario. Andate a fare una gangbang. Insomma. Non se ne esce, non se ne esce. Non se ne esce. Ok, no, una gangbang è facile, è una po' brutta. Allora. Di molte, di alcune, fede, si immagina che saranno anche banche buone. Cioè anche qualche banca avrà fatto qualcosa di buono nella vita. Ok? Quindi, quindi, sì, se la domanda è... Nonna, stai per andare in banca a investire i soldi della pensione di nonno? Che ti ha detto il banchiere che è tanto bravo, che è tanto gentile e viene dalla Calabra. No, dai, dai, cazzo. Dai, 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 dai. Basta. Basta stereotipi. Cioè il banchiere bello vestito sui 55 anni che viene da SudVPN. E ti fa, signora, signora, questo investimento che tutti quanti ci investono tutto quanto, i soldi che poi li fruttano, che poi in banca sennò si perdono e ti rubano. Da Bolzano, nonna, aspetta, no, nonna. Facciamo così. Cara nonna, ti propongo una soluzione pareto superior a questa qua. E nonna ti guarda un po'... Non è pareto, si chiama il signor Randazzo. Nonna, aspetta. Questa è una soluzione pareto superior. Ora però, se mi lasci un secondo spiegarti la pareto superiority, e ti propongo una ancora più pareto superior di questa qui, ok? Ma il signor Randazzo se ne intende di teoria dei giochi? Se ne intende? È un equilibrio di Nash. Ma ha detto che il suo investimento è in equilibrio di Nash. Va bene. Quindi, ok. A nonna che sta andando dal signor Randazzo di Banca in Culia, gli diciamo, nonna, meglio di no. Quella gangbang con 75 persone super col braccio, la terza zampa, non ti fa bene alla tua età. Magari ti diverti. Cioè, magari è una roba. Magari te la ricordi. Però ci potresti lasciare la pelle. Che forse è meglio, così non ci metti i soldi e qualcosa a noi ci rimane. Perché se ci mettessi pure i soldi, sono cazzi. Quelli di prima, da 75 a me, 75 di prima. Anyway. Andiamo avanti. Calma. Siamo calmi. Siamo calmi. Allora. Ciao Twitch. Se è l'ultima volta, fammelo sapere. È stato un piacere. Mi raccomando. Però marzo... Marzo ho fatturato bene. Meno i soldi pagami che quelli di marzo. Poi ci possiamo anche dire addio. Ok. Esigenze di fare qualcosa di nuovo. Ma soprattutto tema costi. Mi rilascia una cosa. Non c'è sfarzo. Non c'è una, diciamo, convention con mille persone. Non c'è sfarzo. Wow, la qualità. Tartine, salmone, caviale, bure. Non c'è salmone. Ecco, esattamente. Nonna, da banca in culia, qua fa... Ah, vedi questi qua? Sono morigerati. Non investono in bottiglie di champagne per invogliarmi a mettere soldi da loro. Ok. Siamo qua in cinque, due tecnici. Voi, in maniera molto semplice, andate al punto, senza spendere troppo dei miei soldi. Ma sì, perché poi adesso... Ci teniamo tutti. Per carità, un po' di soldi dobbiamo spendere. Vabbè, ma un po' ci sta. Un po' nel marketing. Perché è un po' nel marketing. Perché è molto semplice, andate al punto... Senza spendere troppo dei miei soldi. Ma sì, perché poi adesso... Poi, per carità, un po' di soldi dobbiamo spendere. Ma un po' ci sta. Un po' nel marketing. Perché alla fine non vi conosce nessuno. Bravo, la mia mistero. Ed è stata la grandissima... Oh, Vanguard la conoscono tutti. Non fa molto marketing. È la grandissima sfida, no? Quando tu parti, non so, 12 anni fa, e dici, io vorrei gestire i soldi. Mandami 10.000 euro di tuoi risparmi, no? Non è facile. Non è facile. Esatto. E quindi, insomma, avrei mille aneddoti da raccontarti. Lo faremo magari davanti. Però, sì, insomma, l'idea è quella di cercare di andare dritti al nocciolo. Una cosa che deve essere trasparente e chiara per tutti. Mettersi sempre come è stato oggi. In genere, come stanno. Dire le cose come stanno. Dire le cose come stanno. Forse era questa l'intervista scomoda? Forse questo intendeva per intervista scomoda? Poteva mettersi su una poltrona più comoda. Un approccio di fondo di giustizia, non so come dire. Deve esserci un elemento senza far troppo... Senza sbandierarlo troppo, perché poi diventa... Però noi, un po' sta cosa qua ci piace fare. Sì, esatto, lo fai. E se le persone capiscono che lo stai facendo bene, poi lo capiscono, non è che devi fare tanto rumore. Grazie mille. Scusa, ci sono tornato a gamba tesa, perché questa cosa non era programmata. Ebbè, 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 oh cavolo. Le cose a gamba tesa così sono a tradimento. Questa sarà una domanda a tradimento. Come stai oggi? Grazie mille. Un piacere, un piacere. Grazie. Ok, ok. Un po' qui. Avevo qualche... Avevo qualche... Qualche articoletto. Qualche articoletto avevo letto anche. Magari metterò in descrizione qualche articolo, qualche review più onesta, qualche review. Quelle che più ho trovato... Anche questa qui è smarchettata. Qualcuna l'avevo vista un po' più onesta come review. Qualcuna l'avevo vista. Più dettagliata su cos'è, su alcuni aspetti, come è gestito il portfolio, come vengono investiti page not found. Questo è il Money Pharma UK, che è leggermente più economico. La domanda infatti che avrei dovuto fare è perché il Money Pharma UK ha costi drammaticamente più bassi. Dramaticamente più bassi. Se guardiamo qua, fino a 20.000 sterline stiamo su 0,7. E si arriva fino a 0,35. Perché Money Pharma UK è molto più economico? Ok. Ho trovato un post del 2020. Quanto avresti guadagnato se non avessi investito con Money Pharma, che ha evidenziato il cambio di strategia al bottom. Questo è un benchmark 75-25. E il portofoglio 2 Money Pharma, che più o meno replicava la stessa strategia. e con la comunicazione dell'EI stiamo cambiando strategia. Da qualche parte sul sito di Money Pharma ho visto i loro rendimenti e il loro portofoglio. Una delle complain anche che ho è che quello al rischio più alto è comunque 75% azionario. non va oltre il 65%. Trovo che sia abbastanza subottimale. Cioè i fondi pensioni di terzo pilastro qua in Svizzera li fanno anche andare 100%. Perché non... Cioè per restare in tema con i discorsi di prima, perché non posso andare con la 100%? Amici della 100%. E se vediamo... Vabbè. Vabbè. Ok. Qualche domanda? Qualche osservazione? Qualche osservazione? Federico Bidone. Rip, il tuo problema è con i RoboAdvisor o con i RoboAdvisor troppo costosi? Perché sono tematiche diverse. Chiaro. Io... Il mio problema è con... è con... RoboAdvisor troppo costosi e troppo attivi. Io dico spesso che un RoboAdvisor che ha una strategia ragionevole, che fa tutto lui, che ti ribilancia, che ti mette una frizione tra te e il disinvestimento, quindi che ti mette una frizione emotiva, una cosa in più, devi fare una telefonata, non un click su un computer, ma una frizione più dura per agire distinto. una sorta di... non lo so, lo psicologo che devi chiamare prima di poter prendere una decisione, che costasse non più di uno 0.3, per me potrebbe aver senso per buona parte della popolazione. Quindi se un RoboAdvisor mi costasse 0.25, 0.3, come Betterment, come Wealthfront, come quelli americani, come Vanguard stessa in America, fa anche RoboAdvisor, se un RoboAdvisor mi costasse 0.2, 0.25, 0.3 al massimo, e avesse una diversificazione ragionevole, non andasse su scommesse cercando di battere il mercato, cercando di... facesse semplicemente factor investing, come i portfolio modelli della PWL Capital ad esempio, se facesse un po' di factor investing, o se semplicemente replicasse il mondo, un'allocazione magari stocks, bond, volendo anche altri dpd asset, una roba del genere, lo considererei ragionevole e lo suggerirei a buona parte della popolazione. Cioè manderei ogni mia nonna, ogni nonna, la manderei lì subito. Non essendo così, lo scalino, ciò che rimane da fare all'individuo per andare verso soluzioni fatte in casa, è talmente poco che va fatto, a mio avviso. Cioè non c'è nessun ventenne a cui direi no vabbè, fai con loro, c'è nessuno. Forse soltanto quello che sta dedicando la sua vita alla sua startup e lavora 180 ore a settimana perché vuole aver successo in un altro campo e i soldi però non ha neanche quei 5 secondi per preoccuparsene. forse a quella persona potrebbe aver senso o se no all'influencer che fa marchette e che ha affiliate link a perdita d'occhio. Il problema dei robot advisor italiani è che c'è troppa poca competizione oppure che la burocrazia è troppo costosa. Questa è una bella domanda, questa è una bella domanda. Non lo so, non lo so. L'assenza di competizione potrebbe essere un problema, sì, però però nascerebbe, nascerebbe. non lo so, se stessero facendo dei tassi sbilanciatamente alti soltanto per l'assenza di concorrenza nascerebbe concorrenza, qualunque banca tirerebbe fuori il suo, nascerebbe concorrenza. Quindi evidentemente hanno dei costi forse delle rotture di scatole, dei costi alti. Poi ho dimenticato di dire che mi sembra di aver capito, ma correggetemi se mi sbaglio, che Money Farm è alla fine è una gestione patrimoniale, il che vuol dire che paghi plus valenze ogni anno anche non realizzate, cioè tu stai sempre realizzando una plus valenza, quindi non puoi semplicemente comprare ETF e tenerli fino alla morte, non venderli mai, ma ogni anno paghi le plus valenze, esatto. Questa è un'altra roba, una roba demenziale, demenziale. Le minus valenze le compensi con l'anno dopo oppure no? Cioè se quest'anno, l'anno scorso Money Farm ha perso il 10% e quest'anno fa più 10%, più 11% per compensare, compensi oppure no? Le compensi sì, ok, almeno quello, quindi a fine anno rimandano un estratto dei crediti fiscali, immagino. Almeno quello, però si suppone che nel lungo termine siano in positivo per cui tu ti becchi tanti peccati di tanti piccoli tagli ogni anno molto presto. Bene, quindi riassumendo, un RoboAdvisor per me sarebbe utile se ci fossero le seguenti condizioni, costasse molto poco, il mio limite che metto psicologico è uno 0,3, 0,35%, se vogliamo IVA inclusa, cioè un terzo di punto percentuale lo accetterei, e dovrebbe essere veramente robotico, cioè dovrebbe esserci meno gente possibile dietro che fa scelte strategiche, tattiche e strategiche. Le strategiche pure pure a lungo termine voglio offrire la possibilità di avere un portfolio orientato verso ESG sostenibile che è una strategia comunque che è ancora molto diversificata, però le scelte tattiche nel medio e breve periodo non voglio nessuno, cioè non voglio solo in un posto in cui non voglio pagare nessuno che fa scelte tipo tattico.